Ragazzi voi non avete idea di che episodio dei marcatori ci aspetta, ne parliamo dopo la sigla Eccoci ragazzi, siamo con i marcatori improbabili, sicuri ed ex, mi raccomando spolliciate più non posso per questa serie Che tra l'altro come vedete vi ho mantenuto la promessa e ve l'ho anticipata prima della giornata Magari qualcuno vuole sfruttare queste mie stranissime sensazioni per quanto riguarda i consigli del fantacalcio Anche perché nella seconda parte di questo video ci sarà anche l'analisi del file degli arbitri E attenzione perché l'ho modificato ed è venuto fighissimo, attenzione quindi guardate tutto il video Mi raccomando seguitemi anche sui social, link in descrizione come sempre E trovate anche altri link utili qua sotto E allora ragazzi, innanzitutto prima di andare a vedere i marcatori che ho selezionato questa giornata Andiamo a vedere il più strano che avete beccato la scorsa giornata Ricordo anche il nostro store, sempre anche di questo, trovate il link in descrizione Il marcatore più strano che avete beccato ragazzi è Bastoni Bastoni l'ha beccato Giuseppe Ruggerio Che tra l'altro lui ha beccato immobile come sicuro Anche se ci siamo stati fortunati con il rigore Improbabile appunto Bastoni ed ex Muriel che avevamo messo anche noi nella serie Tra l'altro è andato anche abbastanza bene Tra gli ex che avevamo messo anche Zapata e Muriel E anche appunto c'era Mertens mi pare tra i sicuri E ragazzi lui ha beccato Muriel Bastoni e immobile Complimenti, comunque continuiamo C'è anche Elia De Filippis che però Bastoni l'ha messo come ex Ed anche stessa cosa Federico Venchi Complimenti ragazzi Detto questo andiamo a vedere i marcatori che ho selezionato per questa giornata Partiamo dai, diciamo dagli improbabili Ragazzi parto con Pellegrini Luca Pellegrini del Cagliari Mi piace molto come giocatore ormai lo sapete L'ho consigliato tutto l'anno Al fantacalcio Mister 6 e mezzo Una media voto veramente molto buona Soprattutto ultimamente L'ha alzata parecchio Tra l'altro gioca ormai da centrocampista In una sorta di punto di 3-5-2 E quindi spinge molto Non ha però ancora trovato il gol Come notate ha fatto sì 5 assist ma 0 gol Con questa cosa che gioca a centrocampo Secondo me prima o poi lo troverà Potrebbe essere questa l'opportunità giusta Contro il Bologna Vediamo ragazzi Magari porto fortuna Altro nome che ho messo Pjanic Ovviamente chi ha visto il video che è uscito ieri sera E chi mi segue anche su Instagram Saprà il perché Ed ormai è ufficiale Diciamo sarà un giocatore del Barcellona A fine stagione Quindi dalla prossima stagione 2020-2021 E con lui ho un rapporto particolare Perché l'ho conosciuto di presenza Ci siamo visti una partita insieme allo Stadium Ragazzi C'è una cosa particolare Penso abbiate ormai capito Soprattutto se avete visto il video di ieri E le storie su Instagram Perché Quando quella partita che ci siamo visti insieme Era Juventus-Genoa Ok E adesso c'è Genoa-Juve Quindi ancora un'altra coincidenza E in più Su punizione potrebbe far male O addirittura li potrebbe far calciare Un calcio di rigore Sarebbe particolare come cosa Ma non credo Comunque ragazzi Io non so perché Ho questa sensazione Su Piani Ce l'ho voluto inserire È un po' in ballottaggio E non è neanche sicuro che giochi Però Boh Ho questa sensazione positiva Il destino a volte È un po' particolare Con queste cose Ha mandato anche un messaggio D'affetto Emozionante Verso la Juventus E chissà che Non venga premiato Proprio con un più tre In questa giornata Rullo di tamburi Per l'altro marcatore improbabile Ragazzi Sepe Voi dite Ma che stai a dire Sepe che deve segnare No Ma un più tre Lo potrebbe portare Parando un rigore Secondo me In questa giornata Ci sarà qualche rigore parato Infatti ero indeciso Perché ci sono diversi portieri Poi vedrete anche Il file degli arbitri Perché ci sono diversi arbitri Che potrebbero dare Un calcio di rigore E ragazzi Sepe ne ha già parati diversi In questa stagione Due di recente E potrebbe magari Non so Bararlo appunto A Di Carmine O Verre Dipende chi lo calcerà Nel Verona Poteva inserire anche Sirico contro Immobile O anche Stracoscia contro Belotti Perché lì c'è L'arbitro Massa In questa partita di Sepe C'è Valeri Che è comunque uno Che i rigori Li concede Quindi Attenzione Perché Anche Audero Audero Il portiere Gabriele Audero In quella partita C'è Rocchi Quindi potrebbe esserci Il calcio di rigore In Lecce Samba Ma ne parleremo Dopo degli arbitri Passiamo adesso I marcatori sicuri Ragazzi Ho messo Di Bala Perché è troppo in forma Veramente Avrà anche qualche chance Contro il Genua E potrebbe essere decisivo In questo match Ha già raggiunto Quota 9 Quindi vicino Comunque alla doppia cifra E potrebbe Arrivare Chissà appunto Proprio in questa Partita Contro il Genua Poi ho inserito Invece Edinzeko Lui ragazzi Ha steccato completamente La partita con il Milan Si è anche Magnato qualche gol E comunque Ha 14 gol Quindi non sta facendo Una stagione negativa Anzi Penso potrebbe Rifarsi già Contro l'Udinese Avrà qualche chance Appunto Per metterla dentro E secondo me Questa volta Sarà un po' più cinico L'ho azzeccato Ragazzi L'altra volta Contro La Sampdoria Avevo detto Addirittura Che mi aspettavo Lì la doppietta Non dico che Potrebbe farla Anche in questa partita Ma qualcosa Si infetterà Comunque Secondo me Sarà più cinico Rispetto a Contro il Milan Ok Poi ditemi La vostra Nei commenti Ovviamente Poi ho messo L'automaro Martinez Giocatore che È completamente Discontinuo Ultimamente Mentre inizio campionato Aveva una costanza Nelle prestazioni Nelle valutazioni Di recente Ragazzi Non si capisce più Se ha la testa Veramente Al Barcellona O comunque Non è concentratissimo E quindi Fa una partita Molto buona Una alla stecca Nell'ultima Ragazzi Gli hanno dato Un Diciamo Un voto L'hanno premiato Per certi versi Per quell'assist Di testa Ma personalmente Non mi è Completamente Piaciuto Per la prestazione L'ha fatto Soprattutto nel primo tempo Se l'è cavata Appunto Con quell'assist Di testa Per De Vrij Anche se non so Quanto fosse Appunto volontario Nel complesso Ragazzi Diciamo Potrebbe comunque Far bene Contro il Brescia Soprattutto perché Mi aspetto un Inter Molto più arrembante Con 2-3 gol Ovviamente Potevo anche inserire Lukaku Ma ho preferito Andare sull'autor Martinez Proprio perché Secondo me Ha molta voglia Di rifarsi Dopo la prestazione Contro appunto Del Parma Poi passiamo Agli ex Sugli ex Ero un po' In difficoltà Ragazzi Perché non c'erano Tantissimi nomi Sono andato Su Okaka Dell'Udinese Che ha un passato Appunto Nella Roma Non avrà Chissà quanta occasione Quindi Ovviamente Ragazzi Gli ex Sono sempre Non molto probabili A parte qualche occasione Tipo quella Della scorsa giornata Con Zapata e Muriel In questo caso Sarà una partita Come ho detto Un po' difficile Perché si gioca comunque Fuori casa Nel caso appunto Di Okaka La Roma Soprattutto Visto Le Defiance Ecco Le distrazioni Che ha avuto in difesa Nella scorsa giornata Potrebbe un po' migliorare Però Okaka Era uno dei più appetibili Uno degli attaccanti Appunto Ex di giornata E comunque Un attaccante Che comunque La sa mettere dentro Ha segnato già 5 gol In questo campionato Ma L'ultimo È nella 25esima Giornata Pre Appunto Pre-covid Ecco Pre-sospensione Vedremo se appunto Si potrà rifare Cioè potrebbe tornare al gol Proprio contro la sua Ex squadra L'altro nome invece È Riccardo Saponara Giocatore appunto Che ha un passato Anche lui Doriano E che potrebbe Chissà Trovare il secondo gol Stagionale Ha segnato solo un gol Ha giocato comunque 8 partite Quindi non moltissime Ha anche lui Un po' di discontinuità Nelle prestazioni Le capacità Le ha Diciamo che Del Lecce Mi aspettò di più Il gol da Mancoso Dal dischetto Ok Perché vi ho detto Potrebbe esserci un calcio di rigore In questa partita Però dovevo scegliere un ex Ho trovato Saponara E l'ho inserito Poi ditemi voi Se vi aspettate da lui Cose positive O negative Ok Qualcosa comunque potrebbe farla Perché la Sampdoria Qualcosa lo potrebbe Concedere Va bene Passiamo adesso Al file Degli arbitri Vediamo se riesco A prenderlo In tempo record Ok Eccolo qui ragazzi Guardate che figata L'ho modificato Per inserire Anche delle statistiche In più Allora Ve lo spiego un po' Perché alcune cose Non sono utili Per voi Ma più per me Nella registrazione Del video Ad esempio Queste cose Che ho messo a sinistra Per i match Serve per me Per ricordarmi Quando appunto Ne parlo Del file Le partite Che sono già state Designate O meglio Gli arbitri Che sono già stati Designati Per alcune partite Ok Non c'è ancora La designazione Quando sto registrando Di Atalanta Napoli E anche Dell'altra partita Che mi pare Fosse Roma Udinese Ok Però Ci sono alcune Designazioni Importanti Spal Milan Mariani Ragazzi Uno che ha Una media Di ammunizione Come vedete Adesso Non c'è solo Il totale Delle ammunizioni Ma anche Le ammunizioni Per ogni match Ok Unmatch Quindi è molto utile Questa cosa Perché magari Anche in base Al numero di partite Ti dà Direttamente Un valore Indicativo 5.73 Ragazzi È tanto È tanto Già che si avvicinano Al 6 È comunque Parecchio Vuol dire che Quell'arbitro Ammunisce Parecchio Ma soprattutto 9 9 ragazzi Espulsioni Dirette È tanto Cioè 0.6 Significa che È probabile Che comunque Qualcuno Prenda Un rosso Ok In questa partita Quindi state attenti L'unica cosa positiva È comunque Qualche calcio Di rigore Quindi i rigoristi Potrebbero Metterla dentro Poi Torino Lazio Stesso discorso Perché Arbitra Massa Che è uno Che tra l'altro Dà più calci Di rigore Quindi proprio Per questo Mi aspetto Che Velotti O Immobile Possano avere La scienza Dal dischetto Mentre Per quanto riguarda I cartellini Bisogna stare attenti Quindi ai centrali E ai giocatori Quindi più rocciosi Anche lui C'ha 586 Addirittura Per quanto riguarda Le munizioni A partita Ben 82 Complessive Quindi state attenti Per quanto riguarda Invece Lecce Sampdoria C'è appunto Rocchi Altro arbitro Che è sempre Protagonista Tra l'altro A quota 10 rigori Ha la possibilità Di superare Guida Affidando Un altro Calcio di rigore In questo match Ed è colui Che è a quota 6 ragazzi Per munizioni A partita È tantissimo La particolarità Però di Rocchi È che le espulsioni Che lui ha segnato Non sono dirette Cioè Non ne ha data Nemmeno una Ma ne ha date 6 per doppia munizione Proprio perché Ammunisce così tanto Che prima o poi Qualcuno Del doppio giallo Se lo va a prendere Passiamo invece L'unico che lo supera Per ammunizione A partita Ragazzi È proprio Guida Loro 2 Fanno una battaglia Sia per i rigori Sia per le munizioni Passiamo a Genoa Ju Invece a Calvarese Un arbitro Molto più tranquillo Infatti C'ha 5.33 Per le munizioni A partita È un'espulsione Semplicemente In tutto Tutte le Partite arbitrate In 12 partite Quindi È tranquillo Rigori nella media Li concede Quando ci sono E stop Mentre Fiorentina Sassuolo Arbitra Chiffia Arbitro Ancora Più tranquillo 4.83 Per le munizioni E 0 Espulsioni Sia dirette Che per doppia munizione Quindi molto più tranquillo Sulla carta Poi ovviamente La partita potrebbe venire Molto più animata E qualche cosa Potrebbe anche Accadere Attenzione invece A Verona Parma Perché c'è Valeri Che ha già dato Diversi calci di rigore Non è uno Che comunque È molto severo Con le espulsioni Ok Ma comunque I rigori Li concede Ne ha già dati 7 In 12 partite Quindi 0.58 Per quanto riguarda I calci di rigore Poi Inter Brescia C'è Manganiello Uno che ha Espulso Diverse volte Ben 6 Espulsioni In 0.55 Su 11 partite Ragazzi È parecchio Ok Quindi state un po' attenti Soprattutto per quanto riguarda Il Brescia Però appunto Nel complesso Dovrebbe essere una partita Sulla carta A senso unico Mentre Bologna Cagliari Attenzione perché Viene affidata a Sacchi Che è un arbitro Che diciamo Ha poca esperienza In Serie A Almeno per questa stagione Ne ha arbitrate Solo due Però Viene messo insieme A Giu Ok Come assistente Diciamo Al VAR Ok Questo cosa vuol dire Che Giu È uno che Dà un bel po' Di calci di rigore Quindi Nel caso in cui Ci sia un caso Da VAR E Giu Quindi lo richiama Al VAR Potrebbe Sacchi Magari cambiare idea E assegnare il calcio Di rigore Proprio per questo Motivo Perché magari Si fida Dell'arbitro Diciamo Un po' più Esperienza Ok Anche se Giu Non è che sia Tutto Sto anche Come arbitro Comunque Ragazzi Questa era l'analisi Per quanto riguarda Le partite Con già le designazioni Fatte Quindi state attenti Ai rigoristi Provate a sfruttarli State attenti Ai giocatori più rocciosi Per le partite Con arbitri Più severi Ok State attenti Spero Spero Vi possa piacere Questo nuovo file Con molte Più indicazioni Poi per quanto riguarda Le note Le andrò a modificare Più avanti Quando Magari Le statistiche Cambieranno In maniera Molto più netta So per giù Stendo ancora Rispettando questa cosa A parte Forse Diciamo Massa Che è calato Leggermente Ai gialli Era Più di sei partita Tempo fa È calato Leggermente Detto questo Io vi auguro Buona fortuna Ditemi i vostri nomi Qua sotto Nei commenti Per quanto riguarda I marcatori Un improbabile Un sicuro Ed un ex Vediamo chi Beccherà L'improbabile Più strano In questa giornata Va bene Detto questo Recuperatevi i video In caso Dei fantaconsigli Di ieri E anche quello Su Piani C'è molto Comico Se vogliamo Vi ho raccontato Un po' La vicenda Detto questo Vi auguro Una buona giornata Al fantacalcio E da Carmi Special È tutto Ciao ragazzi Ciao ragazzi